notte fonda qui a barcellona alle mie spalle vedete lo spotify camp nou è stata una serata emozionante dai mille volti una gran bella serata per l'inter soprattutto qui in uno stadio storicamente sempre tanto complicato di fatti cancelli chiusi alle mie spalle non c'è praticamente più nessuno abbiamo assistito però ad una grande notte ad una inter che finalmente ha mostrato tratti del bel gioco che avevamo visto lo stesso lo scorso anno con tanta personalità una squadra che ha saputo soffrire nel primo tempo sulla falsa riga di san siro della scorsa settimana del secondo tempo in quel caso qui la squadra di xavi ha approcciato benissimo spinta del resto dagli oltre 92 mila tifosi blaugrana a spingere qui sulle tribune dello spotify camp nuovo l'inter è stata intelligente a rimanere in partita per il primo tempo dopodiché a riacciuffare il pareggio con la splendida rete di nicolo barella nicolo barella che nel corso del primo tempo era stato senza ombra di dubbio tra i migliori se non il migliore dell'inter in un momento di grande difficoltà era stato tra i pochi a riuscire a suonare la carica con la solita elettricità che lo contraddistingue giocatore che anche nella prima frazione di gioco è riuscito a dominare lì in mezzo al campo contro giocatori di altissimo livello come gavi pedri ma soprattutto buschezza anche se buschezza in particolare calato tantissimo sul piano fisico nel corso del secondo tempo un inter dunque che ha saputo soffrire nel primo tempo cercando di pungere sui contropiedi non l'ha sfruttata ad esempio d'unfri su una bella ripartenza orchestrata da chi da nicolo barella ovviamente nel secondo tempo è cambiata l'inerzia della partita è uscita fuori la personalità dell'inter e lo si è visto soprattutto in un calciatore in a cancellano glu che nel primo tempo si era limitato a difendere in un inter che ha dovuto quasi sempre difendere bari centro molto basso nel secondo tempo dal gol di il barella in avanti è cambiata è cambiato l'atteggiamento dell'inter è cambiato l'atteggiamento di cancellano glu che ha iniziato a fare la voce grossa in fase di possesso ma anche in fase di non possesso ha fatto ancora una volta come settimana scorsa una partita molto muscolare e di interdizione riuscendo a neutralizzare le giocate dei centrocampisti del barcellona anche in questo caso è salito nel secondo livello confermando le impressioni di settimana scorsa cioè lui lì davanti alla difesa da play può giocare perché lo fa veramente veramente molto bene altre impressioni qui dal camp nuovo vi racconto qualche retroscena la partita l'abbiamo raccontata poche ore fa nella lunghissima diretta con lorenzo simone e tutti i nostri abbonati tra le curiosità che sono rimaste impresse sicuramente l'atteggiamento di un'ana sempre lì pronto a suonare la carica a sfidare con lo sguardo tutti i raccatta palle che si sono incrociati nel corso del primo tempo soprattutto è stato beccato tantissimo dai tifosi del barcellona sempre fischi dal primissimo minuto nei suoi confronti probabilmente anche perché era un ex ma va detto anche che ha perso subito parecchio tempo già nei primi palloni giocati tanta personalità e la squadra si fida di un'ana lo sollecita tanto anche in situazioni scomode con i piedi un portiere sicuramente molto affidabile non solo questo anche dopo aver preso il gol è andato a centro campo a caricare i compagni a suonare realmente la carica dunque onana superstar onana grande personalità oltre ad un'ottima prestazione perché poi in pagella noi abbiamo dato sette ha fatto grandissime parate poche se non nessuna responsabilità sui gol subiti forse poteva fare di più su quello di Lewandowski però il colpo di testa era perfetto per cui non diamo alcuna colpa anche in occasione del terzo gol di Lewandowski lì forse poteva far meglio la difesa che l'ha lasciata invece indisturbata altri retroscena un inzaghi furibondo in occasione del gol sbagliato da Aslani quella palla che Aslani avrebbe potuto giocare a Mkhitaryan è stato egoista ci sta ma si era capito che Aslani avrebbe calciato aveva una voglia matta di segnare una partita così importante la più importante della sua carriera e sarebbe stato il gol più importante della sua giovanissima carriera ricordiamo che è un classe 2002 quindi ci ha provato però lì egoisticamente ha ragionato egoisticamente doveva essere più altruista e pensare al risultato perché l'Inter in caso di vittoria in caso di tre punti sarebbe andata direttamente agli ottavi di finale già questa sera in maniera aritmetica discorso rinviato il pareggio equivale quasi a una vittoria ecco quindi per Aslani ci sarà tempo molto bene Bellanova grande personalità inzaghi l'hanno buttato lì nella mischia eravamo rimasti un po' perplessi al momento del cambio però inzaghi ha avuto ragione perché Bellanova ha fatto veramente tanto bene altre altre curiosità l'immagine vi lascio la mia immagine della della serata di questi due giorni la più bella in assoluto forse anche la più commovente in assoluto della partita il gol di Robin Gosens speriamo innanzitutto possa aiutare il calciatore ad uscire da un momento difficile però commovente perché tutta la squadra si è stretta in un abbraccio intorno a Robin Gosens quasi a volerlo coccolare dopo aver passato un momento molto difficile negli ultimi mesi quindi un gol meritato e lo stesso Gosens nei minuti successivi al gol è sembrato tutt'altro calciatore poi è vero bisognerà vederlo nelle prossime settimane nei prossimi mesi però si è proposto come non vedevamo fare dai tempi dell'Atalanta ha sfiorato il gol all'ultimissimo secondo anche di testa su una bella girata su una bella incornata verso Testegen bravo però il portiere tedesco che ha esibito anche quest'oggi una grandissima prestazione quindi meriti a Testegen se il Barcellona ha pareggiato hanno fatto benissimo comunque entrambi entrambi i portieri diciamo di Inzaghi è esploso quando Aslani non ha passato il pallone a porta praticamente sguarnita sarebbe stata per Mkhitaryan e poi si è fatto anche buttare fuori per doppia per doppia ammunizione in generale comunque è stata una partita direi già indimenticabile perché qui l'Inter ha sempre ha sempre sofferto è la copertina della serata però abbiamo menzionato tanti calciatori ma la merita uno in particolare stiamo parlando di Lautaro Martinez giocatore top top player di questa squadra di livello altissimo ha impressionato di fatti tutti tanti colleghi spagnoli catalani sono rimasti impressionati da Lautaro Martinez che aveva già battezzato questo stadio nel 2019 nella partita poi persa dall'Inter stasera gol dà il sapore diverso perché sa quasi di qualificazione agli ottavi questa questo pareggio è contribuito dal gol di Lautaro Martinez e dall'assist che ha realizzato anche a Robin Gosens per cui la copertina la ruba Lautaro Martinez che qualora ce ne fosse ancora bisogno ha dimostrato a tutti di essere un grande calciatore questa è forse la notte della consagrazione a livello internazionale perché già sapevamo benissimo del suo livello giocherà da protagonista i prossimi mondiali al fianco di Messi e di Maria giocatori di altissimo livello e questo sarà dimostrato a tutti di essere veramente il top player di questa Inter di poter trascinare la squadra in attesa però dell'altra meta della Lula di Romero Lukaku che ha atteso con molta probabilità tra i convocati per il prossimo impegno in campionato domenica alle 12 e 30 ma nel frattempo l'Inter si gode un grande Lautaro Martinez è tutto qui dall'esterno dello stadio Spotify Camp Nou da Antonio Siracusana è stato un piacere e alla prossima buonanotte